La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. 2011, un virus investe i mercati, si chiama spread. Per contenerlo ci dicono che l'unica soluzione è cedere quote di sovranità. Cambieranno così il modello economico, decidono i mercati, il nostro paese viene commissariato. 2019, un virus investe la società, si chiama Covid. Per contenerlo ci dicono che l'unica soluzione è cedere quote di libertà. E' questo infatti il titolo dell'editoriale di Giannini sul Repubblica. Decideranno quindi le organizzazioni mondialiste come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La democrazia finisce in quarantena. Ma c'è un'altra eclatante analogia. Nel 2011, a prendere le decisioni in Italia, mettono un membro di spicco del cartello finanziario internazionale, Mario Monti. Nel 2020, proprio Mario Monti viene messo a capo della Task Force Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché è evidente che il cartello è lo stesso. Cosa ancora non è chiaro. Hanno cambiato il modello economico? Devono cambiare ora il modello sociale e l'organizzazione del lavoro. Perché non sono più compatibili con il nuovo modello di economia. dove le decisioni non rispettano i principi democratici, ma i diktat dei mercati. In pratica, le oligarchie occidentali, che aspirano ad instaurare un nuovo ordine mondiale, si sono rese conto che la Cina avrebbe assunto la leadership mondiale. Perché l'Occidente, con il suo modello di capitalismo e democrazia, non può più competere con l'autarchico modello cinese, capitalismo e dittatura. C'era quindi bisogno di una brusca inversione dirotta, mandando la democrazia in quarantena. Non è soltanto cinese il virus, come lo chiama qualcuno, ma è cinese il paradigma che ha reso inevitabile la sua strumentalizzazione. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.